E' il terzo fontanello, sono molto graditi i fontanelli di qualità, danno acqua gratuita a tutti i cittadini, acqua di qualità e poi è anche un segnale verso il futuro perché si risparmiano bottiglie di acqua, bottiglie di plastica e vetro in qualche modo si mette insieme un buon servizio con acqua di qualità e un risparmio che migliora l'ambiente